Nelle prime lezioni di introduzione alla programmazione logica abbiamo visto che il prologue prevede un meccanismo di potatura dell'albero di ricerca, denominato CAT, taglio, che consente di rendere più efficiente la programmazione, quindi la ricerca della soluzione all'interno dell'albero di refutazione. L'abbiamo introdotto, abbiamo discusso il funzionamento, ma non abbiamo approfondito il concetto né tantomeno fatto esercizi. Adesso questa unità didattica sarà dedicata proprio a proporre alcuni approfondimenti e alcuni esercizi sull'uso del CAT. Lo facciamo direttamente con un esempio e con degli esempi, partendo da questo qui, in cui supponiamo di dover realizzare un programma prologue per gestire un semplice sistema di allarme. Un sensore controlla la quantità di gas presente nell'aria e le regole che dobbiamo implementare nel nostro programma che gestisce questo sensore sono che se la quantità di inquinamento misurato dal sensore è minore di 3, allora il comportamento è normale, quindi la qualità dell'aria è normale. Se la quantità di inquinamento di gas presente nell'aria è nocivo, è compreso fra 3 e 6, allora bisogna attivare un qualche comportamento denominato alert 1. Se la concentrazione poi fosse maggiore di 6, allora bisogna attivare un comportamento più significativo denominato alert 2. Allora queste semplici regole le possiamo tranquillamente mappare in una definizione di un predicato F che le formalizza tutte e tre. Possiamo concepire questo predicato F con due argomenti, nel primo argomento ci andrà la lettura fornita dal sensore e il secondo argomento è un atomo che rappresenta il comportamento che poi bisognerà attivare. Quindi possiamo dire che il comportamento di attivare in caso di quantità di inquinamento X è normale, il comportamento se X è minore di 3. Possiamo dire che possiamo dire che dobbiamo attivare l'allarme 1 se la quantità di inquinamento è compresa fra 3 e 6, la regola 2. Possiamo dire di attivare l'allarme di tipo 2 se la quantità di inquinamento è maggiore di 6. Adesso quindi compiliamo il nostro programma e lanciamo un goal composto da due sotto goal che adesso ci serve appunto un po' di dati con l'esempio per illustrare il funzionamento del cut. Per giustificarne l'uso, supponiamo di lanciare questo goal, ci chiediamo se a fronte di una quantità di inquinante 2 il comportamento che dobbiamo attivare è alert 1. Ovviamente la risposta sarebbe no perché con la quantità di inquinamento 2 il comportamento da attivare è normale, però facciamo questa richiesta che magari potrebbe provenire da un agente. Facciamo il 3s del lancio di questo goal e quindi prima il primo sotto goal andrà a unificare con la prima clausola e quindi y unificherebbe con normale. A questo punto si andrebbe a verificare se la quantità x è minore di 3 e questo fallirebbe perché x è 2 e fallisce. Quindi si passa alla seconda clausola, si va a verificare che x sia maggiore o uguale a 3 e ovviamente non è così e quindi questo fallisce. Quindi si passa alla terza clausola dove appunto si va anche a verificare che x sia maggiore o uguale a 6, questo fallisce e alla fine c'è il fallimento e giustamente il prologue risponde falso. Tutto ok se non fosse che è evidente che abbiamo fatto un po' troppa computazione perché che la risposta fosse false lo dovevamo capire già all'inizio, quando sarebbe stato meglio capirlo già all'inizio, quando avevamo effettivamente riconosciuto che x che avrebbe unificato con 2 era minore di 3 e in questo caso il comportamento era normale, y quindi avrebbe unificato con normale e non con alert 1, a questo punto y uguale alert 1 avrebbe dovuto fallire. Cosa che è stato, però il prologue a seguito del fallimento del matching con la prima clausola è andato a tentare anche la seconda clausola e anche poi la terza clausola. Ecco questo sarebbe quello che in una computazione intelligente si vorrebbe evitare ed è per questo che è stato introdotto il CAT. Vogliamo tagliare una porzione dell'albero di ricerca dove sappiamo già, il programmatore sa già che non ci sarà una soluzione se si è arrivati a un certo punto. E quindi cosa potremmo fare noi? Potremmo passare a introdurre il CAT e modificare il programma in questa maniera. Potremmo dire se x è minore di 3 allora il comportamento è normale, punto, punto esclamativo. Che significa? Significa imitiamo un CAT e vorremmo significare che se ha successo questo gol allora è inutile tentare altri gol perché se è successo questo gol le altre clausole non dovranno essere prese in considerazione. Questo è sostanzialmente quello che fa il CAT. Cerchiamo adesso, l'abbiamo visto a suo tempo quando abbiamo fatto la lezione teorica, cerchiamo adesso di ricordare brevemente cosa fa il CAT e come si comporta. Il CAT, qui vediamo un esempio generico dove abbiamo due predicati A e C, due definizioni predicati A e C, dove A a un certo punto chiama C e C, il predicato C, ha due clausole che lo definiscono. Una che chiama una serie di sottogol, uno dei quali essendo il CAT e un'altra che chiama un altro sottogol. Il funzionamento del CAT, ve lo ricordo, è questo qui. È un predicato metallogico che quando viene chiamato, se a un certo punto viene a essere chiamato per tentare di unificare con la testa di una clausola, ovviamente non c'è nessuna testa di clausola con cui possa unificare, però la prima volta che viene chiamato, il prologue lo implementa in questa maniera. Ha successo. Per cui ha automaticamente successo e quindi l'esecuzione passa all'atomo più a destra, se c'è. Altrimenti ha successo la clausola che è stata chiamata, la chiamata dell'atomo che ha fatto partire quella clausola nel cui corpo lui compare, ha successo. Dicevo, se invece ci sono altri atomi viene preso in considerazione l'atomo successivo. Se poi nel corso degli atomi successivi alla sua destra si registra un fallimento e il backtracking fa sì che si tenti di risoddisfare l'atomo in questione, cioè il cut, allora il cut fallisce. In pratica il cut è una specie di valvola che fa proseguire la computazione da sinistra verso destra, ma non la fa tornare da destra verso sinistra. Cerchiamo di seguire anche qui nello schema che vediamo rappresentato in figura. Supponiamo di lanciare il goal A, il goal A unifica con la testa di questa clausola per cui attiverà in sequenza il goal B e poi il goal C e il goal D. Ebbene, adesso qui non è specificato per lui, supponiamo che B abbia successo e quindi si passi su C, a questo punto C a sua volta farà partire o questa sequenza di goal, sotto goal qui, che corrisponde alla sua prima clausola, o quest'altro goal qui. Cosa succede? Succede che la computazione può andare, come vedete qui rappresentato, avanti e indietro, va avanti verso destra man mano che vengono risolti i goal, torna invece verso sinistra in occasione di backtracking, cioè di fallimento, cioè si incontra un ramo che non può unificare con, vi ricordate benissimo, una foglia che non può unificare con la testa di alcuna clausola e quindi c'è il backtracking, si torna indietro. Quindi si può andare avanti per la normale regola di selezione dei goal, indietro per backtracking. Si potrebbe spaziare avanti e indietro tranquillamente fino alla fine, ma se c'è un cut, il cut come dicevo prima funziona da valvola, e cioè si può andare verso destra ma non si può tornare verso sinistra. Cioè supponiamo che abbiamo attraversato il cut, a questo punto si chiamerà S, poi eventualmente si chiamerà T, poi eventualmente si chiamerà U, se ci fosse un fallimento si richiamerà T, se ci fosse un fallimento su T si richiamerà S e poi si potrà tornare avanti e così via, ma se dovesse poi fallire anche S e si dovesse tornare indietro, ecco questo non si potrebbe fare. Al fallimento di S, il fallimento di S provocherebbe il fallimento di C e non si tenterebbe neanche di la strada V, cioè la seconda clausola non verrebbe neanche tentata. Per cui è come il cut funziona in questa maniera, quando viene chiamato sostanzialmente congela tutti i gol che sono stati matchati, che hanno avuto successo prima di lui, nel senso che se volete soddisfare la clausola di cui io faccio parte, non c'è altra strada, dovete per forza considerare valide i gol che sono stati unificati prima del cut. Se no, fallisce direttamente la chiamata alla clausola in questione. Quindi, in questo caso addirittura fallirebbe C e quindi si farebbe fallire A addirittura e quindi se avesse un'altra clausola andrebbe in un'altra clausola, se avesse un'altra clausola con cui A possa unificare, qui non è rappresentato in figura, altrimenti terminerebbe qui. Quindi, tornando a noi, quello che succede è se ha successo che X è minore di 3, allora non vengono tentate le altre strade, qualora ci dovesse essere un fallimento. Ora cosa succede? Noi questo particolare gol che andiamo a lanciare adesso è fatto in maniera tale proprio da provocare il fallimento, perché era dilato in questo senso che istanziamo la Y con normale, a questo punto fallirà questo secondo gol e provocherà il backtracking. E vediamo quindi come si comporta il backtracking adesso questa chiamata. Proponiamo la stessa chiamata, questa volta unifica quindi con questa clausola, vediamo che X ha unificato con 2 e Y ha unificato con normale, si va a verificare che X sia minore di 3, stop, c'è il cut, a questo punto viene fatto partire Y uguale alert 2, si va a vedere se Y è alert 2 e Y non è alert 2 perché Y ha matchato con normale e quindi normale è diverso da alert 1, chiedo scusa, e quindi si provoca il fallimento, ma a questo punto questo cut qui impedisce il risoddisfacimento di F con altre clausole, come abbiamo visto nell'esempio di prima, per cui si esce direttamente dalla computazione e la computazione termina con falso. Quindi in pratica rispetto a prima, potete fare il confronto tornando indietro, vedete che abbiamo eliminato l'esame della seconda e della terza clausola, e quindi la computazione è stata più efficiente. In pratica si può dire che abbiamo disgiunto le clausole, abbiamo reso il programma, questo programma che abbiamo davanti agli occhi, un programma deterministico, cioè se una chiamata di un gol unifica con la prima clausola, e alla fine ha successo, non unificherà con la seconda e con la terza, se unifica con la seconda e non unificherà con la terza, significa che con la terza è tutto ok. Per poterlo rendere del tutto deterministico mettiamo anche un cat qui, cioè in pratica succede questo, se x è minore di 3 allora a posto basta, non devi più tentare altre strade. Se invece x non è minore di 3, questo fallisce, il cat non viene eseguito, si passa alla seconda clausola. A questo punto si va a vedere se è maggiore o uguale a 3 o minore di 6, e si mette il cat. Se era 7, ad esempio, quindi non viene verificata questo gol qui, si passa alla terza clausola e quindi si attiverà l'allarme 2. Ancora qui però si vede che effettivamente ci potrebbe essere qualche cosa da migliorare, perché supponiamo adesso di lanciare ad esempio con 5, e si va a vedere che se 5 è minore di 3 non è minore di 3, quindi si va alla seconda clausola e ci si chiede se 5 è maggiore o uguale a 3. Anche qui potrebbe venire la tentazione, viene in effetti, di notare che se siamo andati alla seconda clausola è perché x non era minore di 3. Allora per quale motivo chiedersi ancora se x è maggiore o uguale a 3? Se siamo andati lì è perché sicuramente x era maggiore o uguale a 3, perché se non fosse stato così non saremmo andati lì, ci sarebbe stata l'unificazione con la prima clausola. Quindi sembra che questo controllo qui sia un controllo non necessario e quindi si potrebbe evitare. Nasce cioè la tentazione di passare a quest'altra soluzione, cioè la soluzione che elimina anche il controllo che nella seconda clausola che x sia maggiore o uguale a 3. E cioè sembra, a questo punto questa qui effettivamente potrebbe anche essere un underscore, sembra di poter fare questa cosa qua. E cioè di andare a verificare se x è minore di 3, a questo punto il discorso si chiude qui. Se si va alla seconda è perché x non è minore di 3 e quindi è inutile fare questo controllo perché sicuramente x è maggiore o uguale a 3 e semplicemente andiamo a vedere se x è minore di 6. e se non è minore di 6, allora andiamo qui e non c'è a questo punto problema. E questo modo di fare potrebbe anche andare bene però in realtà ci sono dei problemi perché se adesso andiamo a guardare il programma così come l'abbiamo scritto adesso le cose non sono più così chiare dal punto di vista dichiarativo. Dal punto di vista procedurale sembra che funzioni. Dal punto di vista dichiarativo però non sembrerebbe in quanto che nel primo caso abbiamo che effettivamente se x è minore di 3 allora si deve attivare l'allarme normale cioè nessun allarme. Se x è compreso fra 3 e 6 si deve attivare l'allarme 1 e se x è maggiore di 6 bisogna attivare l'allarme 2. Esattamente come avevamo da implementare secondo le regole. La lettura dichiarativa di quest'altro programma invece che andiamo a compilare è una lettura dichiarativa che tradisce un po' quelle che erano le attese dal punto di vista dichiarativo perché se c'è scritto qui che se x è minore di 3 allora l'allarme non ci deve essere. Se x è minore di 6 l'allarme è 1 ma è chiaro che questi due casi sono ambigui perché x minore di 6 potrebbe anche significare x uguale 2 e quindi il caso x uguale 2 a questo punto non si capirebbe al punto di vista dichiarativo se dovrebbe attivare un allarme di tipo 1 oppure se è una situazione normale. cioè se noi facciamo partire un goal ad esempio così f2 y e unificando con la prima per carità ci dovrebbe dare normale ma se noi andiamo a fare lo lanciamo in maniera un po' provocatoria cioè chiediamo se con un livello di inquinamento 2 l'allarme sia di tipo 1 dovrebbe fallire perché la regola dice che se l'inquinamento è di tipo 2 l'allarme non ci deve essere deve essere normale. Se noi invece lanciamo questo goal cosa succede? Che unifica direttamente con la seconda clausola viene effettivamente verificato che 2 è minore di 6 e quindi succede e la computazione risponde true e quindi è vero che con un inquinamento 2 l'allarme c'è e invece questo è sbagliato perché con un inquinamento 2 l'allarme non ci deve essere la situazione è normale. Dunque che cosa è successo? Per cercare di tirare un po' le somme abbiamo esagerato nell'uso del CAT cioè l'uso del CAT è stato talmente esagerato che ha potato una porzione dell'albero che nel caso di questo goal conteneva la soluzione. E che cosa dire quindi? Nell'esempio che abbiamo ancora qui che è stato l'esempio che abbiamo fatto prima quello era un esempio di uso del CAT corretto e questi CAT che vedete qui sono CAT si dicono verdi perché verdi perché appunto corrisponde ad un uso corretto del taglio un uso che cioè non farebbe cadere via non getterebbe via nessun percorso che porterebbe a una soluzione qualunque fosse la forma del goal con cui viene verrebbe attivato quel predicato. nel secondo caso invece abbiamo visto che questo è un uso troppo spregiudicato del CAT perché in alcuni casi potrebbe eliminare dei percorsi che portavano alla soluzione corretta. Come si fa a distinguere fra i due? In base alla posizione per esempio se stanno alla fine sono CAT verdi e questi altri non l'ho detto si dicono CAT rossi se invece non stanno alla fine sono CAT rossi no perché come vedete in entrambi i casi li abbiamo messi alla fine quindi il riconoscimento non è la distinzione fra CAT verdi e CAT rossi non è legata banalmente alla posizione del CAT all'interno della clausola ma è legato questo sì lo possiamo dire al mantenimento del significato della correttezza dichiarativa del predicato stesso. Come vedete questo predicato come ho discusso un attimo fa in cui si dice che c'è un CAT rosso perché la definizione del predicato ha compromesso la struttura dichiarativa delle regole che il predicato doveva formalizzare invece nel caso precedente le regole erano espresse dichiarativamente in maniera corretta perché erano disgiunte in maniera corretta quindi in pratica noi questo ulteriore controllo da fare qui lo dobbiamo fare per forza per mantenere la correttezza della computazione questa è la distinzione fra i CAT verdi e CAT rossi vediamo ancora un altro esempio è un esempio in realtà che abbiamo già introdotto nell'azione teorica in cui parliamo del CAT un predicato a tre argomenti che si suppone che lo lanciamo istanziando i primi due argomenti e deve residire al terzo argomento si suppone non istanziato il maggiore fra i due argomenti che abbiamo passato i due valori che abbiamo passato nei primi due argomenti quindi lo possiamo implementare correttamente in questa maniera possiamo dire che il maggiore fra x ed y è x se x è maggiore o uguale a y il maggiore invece fra x ed y è y se x è minore di y bene questa è una implementazione corretta del predicato perché noi adesso lanciamo supponiamo vogliamo sapere se il maggiore che è il maggiore fra 3 e 1 e funziona tutto si fa vedere se 3 è maggiore di 1 se 3 è maggiore di 1 il programma termina e risponde si il maggiore è 3 ok ci sono altre soluzioni andiamo a vedere se il predicato ammette altre soluzioni si va a vedere se 3 è minore di 1 3 minore di 1 fallisce e quindi fallisce il tutto e la risposta correttamente è false non ci sono altre soluzioni quindi certamente il maggiore fra 3 e 1 è 3 possiamo anche provare a lanciarlo in maniera già istanziata e cioè gli chiediamo se il maggiore fra 3 e 1 è 3 anzi chiediamoli se il maggiore fra 3 e 1 è 1 questo punto dovrebbe rispondere false non può unificare con la prima clausola perché x ha unificato con 3 e questa x non può questo punto è 3 quindi non unifica con 1 può unificare con la seconda clausola e quindi va a questo punto a vedere se 3 è minore di 1 3 è minore di 1 non è e quindi fallisce e quindi correttamente questo predicato ci restituisce false cioè il maggiore fra 3 e 1 non è 1 tutto ok a questo punto al programmatore potrebbe venire la tentazione che fra l'altro appunto ho seguito nella lezione di teoria in cui ho presentato il cut di usare il cut per disgiungere queste due clausole e cioè non facciamo fare questo test perché il concetto è se ha verificato questo test io metto un cut qui in me tale che qualora ci fosse un fallimento dopo non si vada alla seconda clausola quando ci fosse un goal che fallisse dopo ci fosse un backtracking sul predicato max e quindi il predicato max dovesse trovare altre soluzioni mettendo un cut qui non si va all'altra soluzione quindi effettivamente potrebbe sembrare di aver fatto una buona cosa solo che anche qui se andiamo a rileggere dal punto di vista dichiarativo il predicato come risulterebbe la lettura nel primo caso andava bene sostanzialmente in quest'altro caso se andiamo a leggere dichiarativamente dice il predicato dice così che il massimo fra x e y è x se x è maggiore o uguale a y ok a parte questo cut che non ha alcun significato dal punto di vista logico quindi questo va bene quest'altra invece dice che il maggiore fra qualunque cosa è y e y e questo non va bene ovviamente al punto dichiarativo quella di prima diceva che il maggiore fra x e y e y se x è minore di y questo andava bene quest'altra qui dal punto di vista dichiarativo non ha senso e questo fa ci fa capire che questo è un cut rosso è un cut rosso e quindi come possiamo vedere il malfunzionamento di questo cut rosso se noi lanciamo il goal questo goal qua non avendo istanziato x cosa succede succede che parte questo questo goal maggiore fra t e 1 x chiediamo qual è maggiore fra t e 1 si può vedere se 3 è maggiore uguale a 1 3 è maggiore uguale a 1 ok quindi risposta 3 se adesso noi facciamo niente non abbiamo non possiamo provare il fallimento perché la computazione è finita però se noi lanciamo invece che questo goal l'altro e a questo punto non può unificare con la prima clausola quindi va a tentare direttamente la seconda clausola questo goal e effettivamente qui c'è scritto qualunque cosa sarà il maggiore fra qualunque cosa di y e y quindi anche se questo qualunque cosa è 3 il risultato sarà true e quindi il maggiore fra 3 e 1 è 1 è vero sì chiaramente questo non è un risultato corretto e quindi questa implementazione del max non è corretta e quindi le cose sono due o rimaniamo in quella originaria oppure possiamo provare quest'altra in cui facciamo comunque uso del cat però vediamo un po' cosa succede salviamo ricompiliamo e che cosa abbiamo cambiato qui è tutto come prima meno che abbiamo chiamato max il maggiore fra x e y e semplicemente successivamente dopo il cat andiamo a istanziare la variabile max ad x se x era maggiore o uguale a y e invece la istanziamo ad y nell'altro caso cosa cambia proviamo a vedere lanciamo compiliamo lanciamo il gol problematico di prima che era questo qui e vediamo cosa succede allora chiediamo se fra t1 e maggiore 1 viene unificato questo qui con la prima clausola questa volta unifica con la prima clausola perché non è dettata subito immediatamente l'unificazione fra 3 e 1 al terzo argomento qui come vedete perché x unifica con 3 y unifica con 1 e max unifica con 1 attenzione prima invece x apposito max c'era x che era già diventato 3 e quindi 3 non poteva più unificare con 1 quindi questo ha successo si va a vedere se 3 è maggiore di 1 3 è maggiore di 1 va il cat a questo punto il max viene unificato cioè si va a vedere verrebbe unificato se non fosse già stato istanziato con ma in realtà max è già istanziato è 1 quindi si va a vedere se 1 è 3 ovviamente 1 non è 3 quindi questa fallisce e quindi a causa della presenza del cat non viene tentati questo cat qui non viene tentata la la seconda clausola perché il goal precedente che x era maggiore o doveva essere maggiore o uguale y è stato congelato da questo cat quindi la seconda non viene per niente tentata e risponde false quindi questa implementazione del cat del max con questo uso del cat sembra effettivamente funzionare ovviamente possiamo anche lanciare l'altro ma se funziona quello lì funziona anche quest'altro vediamo qui x max non è stata istanziata è stata istanziata viene adesso istanziato x uguale 3 e subito si esce dalla computazione perché ha avuto successo questo cat qui ha disgiunto comunque le clausole quindi se ci fosse stato un fallimento dopo possiamo provocare un fallimento in maniera artificiale questo questo ha successo quindi questo dovrebbe aver successo a questo punto c'è la chiamata false false fallisce e ci sono altre soluzioni no il predicato fallisce comunque allora cercando di andare alle conclusioni vediamo questo che sostanzialmente il cat modifica il significato dichiarativo delle clausole per esempio se avessimo queste due clausole qui P se a B e P se C insieme a questa definizione di predicato P sta debba significare che P è vero se solo se è vero A and B devono essere queste due oppure se è vero C come sappiamo bene dalla teoria dei programmi definiti se noi andiamo a mettere il cat in pratica il predicato assume un altro un altro significato a livello dichiarativo perché questa definizione di predicato starebbe a dire P è vero se solo se è vero A e B questo come prima e poi non or C ma or not A perché deve aver fallito A per non aver avuto e per non essere stato seguito il cat perché se viene seguito il cat l'unificazione con C non c'è più quindi il significato al punto dichiarativo è l'alternativa al fatto che sono veri A e B non è più semplicemente C ma l'alternativa è che sia falso A e sia vero C perché solo se è falso A si passa a considerare C questo questo è il cambiamento e la cosa più grave da un punto di vista sempre di correttezza dichiarativa del programma Prolog è che se noi andiamo a invertire l'ordine di queste due clausole il significato cambia ancora perché se noi le stesse due clausole le invertiamo di significato di di posizione il significato diventa P è vero se solo se è vero C oppure è vero A e B che è altra cosa rispetto a questo ecco perché il CAT è uno strumento potente nella programmazione in Prolog ma va utilizzato in maniera corretta perché altera il significato dichiarativo delle clausole quindi bisogna sempre rileggere le clausole se vediamo che dall'uso del CAT il significato dichiarativo delle clausole non cambia abbiamo introdotto un CAT green non avremo problemi se abbiamo visto ci accorgiamo che introducendo il CAT il significato dichiarativo dei predicati cambia allora dovremo stare bene attenti a usare quel predicato in maniera tale che l'uso che se ne farà di quel predicato sarà tale per cui il lancio che verrà fatto di quel predicato all'interno del nostro programma sarà tale per cui non si andrà mai ad escludere delle soluzioni quindi se noi vogliamo usare per esempio la versione del max con quel CAT rosso che abbiamo visto prima è perché si intende che nel nostro programma il terzo argomento sarà sempre non istanziato non avremo mai il caso del lancio di quel programma con un terzo argomento istanziato è solo un esempio ovviamente ma serve a capire che io posso usare un CAT rosso se so che quel programma sarà sempre lanciato in una certa maniera per cui mi darà sempre le soluzioni corrette se invece il CAT è verde non c'è problema